Buongiorno e benvenuti a questa resegna stampa di oggi 20 settembre. Sui giornali ovviamente ci sono soltanto le notizie prese in tarda notte riguardo al terremoto gravissimo in Messico. Ma tutto quello che riguarda il terremoto l'avete preso sulla rete, lo saprete nelle prossime ore, telegiornali. Quindi i giornali giustamente hanno dato un risalto che merita di una grande tragedia ma che è in evoluzione. Vediamo le cose che invece riguardano più direttamente le affari nostri. La cosa che più mi ha colpito oggi è perché mi riguarda direttamente, essendo io anche perché obbligato, non certo perché lo voglio, ma iscritto all'ordine dei giornalisti, ma comunque facendo il giornalismo, ad esempio quello che faccio tutte le mattine qua con voi, mi ha colpito quello che ha detto Beppe Grillo. Cioè ha detto ai giornalisti vi mangerei per vomitarvi. Questo ha detto Beppe Grillo. Se i giornalisti invece di avere un ordine dei giornalisti, cioè un ente burocratico che tutela i più forti e cerca di fare finta di aiutare i più deboli, ma in realtà è una specie di orribile corporazione che serve a nulla, invece di avere un ordine dei giornalisti, noi avessimo un po' di dignità, diremmo a Grillo quello che lui ha detto agli italiani, cioè vaffanculo. Va bene? I giornalisti che seguono Grillo gli direbbero vaffanculo perché poi i tuoi candidati, te, ci tenete a quello che scrivono i giornalisti, perché non vivete soltanto delle vostre primarie, comunarie e elezioncine fatte tra quattro gatti o come scrive qualcuno oggi l'oligarchia che mangia se stesso. Quindi oggi i giornalisti dovrebbero dire, come lo avrebbero dovuto dire mesi fa e anni fa, quando a Sanremo prendeva e insultava tutti i giornalisti, che sono in realtà poi non i direttori dei giornali, non i grandi opinionisti, non i televisivi. Sapete chi sono? Sono proprio esattamente i precari del nostro mestiere, cioè quelli che stanno sotto le case sul marciapiede, dove abbiamo iniziato tutti quanti, sul marciapiede ad ascoltare la dichiarazione deficiente, l'ultima dichiarazione deficiente dell'ultimo politico. Ebbene, Grillo è esattamente la stessa cosa. Quindi quello che noi dovremmo urlare enorme, gigantesco, come piccola corporazione, come piccola dignità, sarebbe Grillo, vaffanculo! Scusate la volgarità del termine, ma non faccio altro che mutuare il linguaggio politico del leader di uno dei partiti più importanti dell'Italia. Andiamo ad altre cose, sempre del Movimento 5 Stelle, che interessano molto i giornali. Chi segue questa zuppa sa che sul Movimento 5 Stelle io ho delle posizioni che sono di pragmaticità, dipende dal singolo caso. Quando io oggi, per esempio, vedo che Gramellini, legittimamente, come tutti i giornalisti, legittimamente sfotte Di Maio, perché è andato a baciare la teca con il sangue di San Gennaro, e Gramellini dice, cosa dice esattamente Gramellini? Fa Di Maio quello che hanno fatto tutti i masanielli devoti che hanno cercato di ingraziarsi il cardinalone e il popolino. Beh, allora io direi in questo caso, senza dire che i giornalisti devono essere mangiati e vomitati, perché non c'è bisogno di dire questo, dico che in realtà Di Maio, se è in connessione con il popolino, fa bene, fa bene. Cosa c'è di male a essere in connessione col popolino? Cosa c'è di male a parlare al popolo? Cosa c'è di male nel seguire i propri riti? È molto meglio invece fare, leggersi un libro su Heidegger nella casa di Gramellini, insieme a cinque stipendiati dai contribuenti nelle varie fondazioni, associazioni culturali dei miei stivali? O è così indignitoso per un rappresentante della politica tuffarsi in quel popolo, se volete anche, posso anche non crederci, ma in quel popolo, diciamo, credente nel miracolo di San Gennaro? Io preferisco quelli che si calano, o meglio, penso che un politico che si cali in quel popolo, che vada al bar e che mangi e che beva con le persone normali, e che vada nelle chiese normali, e che senta cosa pensano le persone normali, è meritevole di attenzione e non di sfottò. Quindi se il basolino, il vecchio comunista, va a baciare il sangue di San Gennaro, può essere criticato da i suoi compagni, ma fa una cosa popolare, Di Maio va a baciare, fa bene, fa bene, meglio lì che nei salotti in cui si discetta dell'ultimo libro, della Ferrante, di cui ce ne sbattiamo le balle. Possiamo leggerlo e possiamo anche dire che si può leggere la Ferrante e si può anche andare a messa. Bravo, Di Maio. Poi, detto questo, voglio dire, resta il concetto. Grillo, vaffanculo! La prossima volta che ti permetti di dire che i giornalisti devono essere mangiati e vomitati, che è una cosa di una volgarità, che soltanto un cretino può pensare, un malato di mente può pensare a una frase di questo tipo, beh, insomma, i fatti separati dalle, come si chiama, dalle opinioni, dicevano i giornalisti degli anni 70, riempiendo di opinioni i fatti. Altra questione che incrocia fatti e opinioni è certamente quella di Trump. Beh, oggi la sintesi migliore l'ha fatta, secondo me, la stampa, diretta da Molinari. Penso che sia l'unico giornale in Italia che non ha recensito alla disuguaglianza fa bene. Questo a proposito della mia scissione mentale, cioè riesco un po' a essere vendicativo, perché se penso che la stampa non mi ha fatto neanche una riga l'unico giornale, però poi Maurizio Molinari in politica estera, e ovviamente forse un po' meno nell'affetto nei confronti dei liberali, riesce a essere più laico di tanti altri giornalisti. Aperta e chiusa la parentesi. Trump dice, cosa dice? Trump-Macron duello all'ONU. Trump contro gli stati canaglia. Macron contro il riscaldamento globale. Ditemi un po' voi con chi state. Voi pensate che oggi c'è l'emergenza, il riscaldamento globale, o sia un'emergenza il fatto che ci siano degli stati che hanno la bomba nucleare e che con dei missiletti li lanciano in giro per il mondo, o comunque in Medio Oriente volevano esattamente dieci anni fa gli israeliani distrussero con un'operazione segreta straordinaria una centrale nucleare che avrebbe fatto bombe nucleari sulle rive del fiume Eufrate. Beh, insomma, cosa pensate che sia meglio? Stare con gli israeliani? Stare con gli americani che vogliono distruggere gli stati canaglia? o farsi le pippe del Club di Parigi? Punto di domanda, avete capito come la penso io? E poi, riguardo al discorso di Trump, quando dice l'America al primo posto, dice anche una frase seguente che oggi i giornali riportano, ma non titolano. Ma d'altronde tutti i leader fanno la stessa cosa, dice Trump. Per esempio, penso io e aggiungo, Macron nei casi rispetto all'Italia, a fincantieri e compagnia cantante, non ha la Francia prima di tutti. Francia first, dal punto di vista così intellettuale, fa finta che il problema sia il clima. Dal punto di vista concreto, poi fa finta che invece gli interessi nazionali valgono più di quelli globali sui quali si riempie la bocca alle inutili organizzazioni come quelle dell'ONU, almeno mi sembra inutili da quello che hanno fatto negli ultimi anni nel sopire le guerre. E i veri conti di Fazio sono il pezzo che oggi fa la verità, che c'è due pezzi da leggere. I veri conti di Fazio, c'è un altro dettaglio, il suo stipendio di 2 milioni e mezzo mi sembra all'anno, c'è il 50% della società che produce la sua trasmissione. E beh, quello probabilmente qualche vantaggio economico gli può dare. Tutto legittimo, per carità. Basta che non si pianga alla censura politica come lui ha fatto un certo tempo. L'ultima cosa che vi segnalo straordinaria oggi sulla Verità, perché io sono un suo fan totale, è Giancarlo Perna. Il ritratto che oggi ci regala è quello nei confronti del capo della polizia, Gabrielli. Sapete qual è il capo del titolo? Lo sbirro che fa il duro solo con gli italiani. Leggete Perna, vi racconta la storia di questo democristiano di sinistra, nato all'ombra appunto della DC di sinistra, che la sua vita politica di altre alterne vicende su e giù, e soprattutto sul fatto che, dice Perna, è perfettamente in quella linea boldrignana in cui in realtà essere duri con chi commette irregolarità da parte, cioè una certa condiscendenza culturale alla immigrazione anche irregolare. Mettiamola così, Perna lo dice meglio, lo scrive meglio, vale la pena leggerlo. Direi che è tutto. Questa sera, quanti minuti abbiamo fatto adesso su questo computer, non riesco a vedere. Questa sera Matrix, alle solite 23.30, 23.40, non mancate, ieri non ci siamo stati, perché recuperiamo questa sera e domani sera. Due giorni di Matrix questa settimana, non mancate, state con noi. Un grande saluto a tutti quanti voi, ciao!